Posso filmare? Che c'entro io? Cruce e botte. Per me sono tutti maldi. Tu vedrai, deve essere successo qualcosa di grosso. E più non ti mandare. Ambulanza! Come mi portate? Piazza San Salvo. Ma come? Per che cosa, scusi? Le feste. Le San Giovanni. E lo dice tutto loro. Mi divieto. Bisognerebbe tutto il cazzo in cervello. Sono indispensabili per portare la pace e la democrazia nei paesi sottosviluppati. Allora, te tu le metti lì. E ti pensi che gli basti cambiarsi la maglietta perché lui è la nostra? E naturalmente, grazie a lui, il gentil terremoto che con l'amabile suo modo, tremarle case fa. Ce ne vorrebbe uno al giorno, ma purtroppo... Senza l'economia si va poco lontano. Ormai tu sei una star... Chiarugi. Cavallo pazzo. Numero uno. Antonioni. Capitano numero dieci. Benedicco. Tutti i calciatori e questa trasmissione. Si ha legato Gesù Cristo. Sempre signorità. Giacchietto. Poverlina, quando vengo passata lo può vedere io il giacchietto. Ma dai, è proprio un bel giovanotto. Noi ci aspettavamo uno a noi. Siamo tutti con noi. Lapo! 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 Io sono Lapo Forcini. Mi pianto con me. wasprediata in dentro causa delle giaozie, che mi pianto siente per SF. Che mi puoi apprende! -